salve e benvenuti di nuovo al lion bull academy oggi vorrei parlare del di un progetto che sto creando che creeremo tutti insieme e si tratta di una trading floor per poter imparare trading sia in persona che la gente possa venire e imparare trading con me o con altre persone che possiamo anche invitare e anche in maniera online attraverso telecamere per poter essere sempre insieme l'idea è che diventi completamente gratuito per tutti adesso vi spiego come non è non vi voglio fregare soldi non voglio fare niente di questo genere così soltanto ascoltatemi e voi pensate come il progetto cosa ne pensate me lo scrivete sotto anche poi nei commenti però volevo farvi vedere un po' qual è la mia idea e come farlo diventare gratis perché alla fine io quello che voglio è che siano i broker che vi paghino a voi anche le lezioni per venire o quelle online adesso vi faccio l'idea di che cosa perché le lezioni sia ci sia il broker o non ci sia io il trading i corsi e tutto sarà sempre gratis non voglio prendere neanche una lira per quello lo voglio fare sempre gratis e penso che questo è la base del progetto di lion bull academy è quello di essere gratuiti per sempre anche se c'è il mio tempo lì la roba io voglio farlo sempre gratis certo adesso vi spiegherò la mia idea andiamo nell'altra schermata apriamo il progetto ok questo è lion bull academy the trading floor allora l'idea un locale di trading sarebbe una bella officina piena di computer perché ci si possa entrare tanta gente di cui faremo trading e lezioni di trading in diretta sia presenziale che può venire uno a quando gli pare lì a fare i trading con me sia online e dal da internet con tante telecamere spiegate vabbè quella presenziale sarebbe in tre lingue spiegherò in tre lingue le stesse cose perché tutti possano usufruire e quella online sarà maggiormente in inglese con qualche giorno a settimana o in italiano o in spagnolo per cambiare un po' però maggiormente sarà in inglese però se qualcuno mi domanda in un'altra lingua io risponderei anche in quella lingua e poi lo rispiegherei in inglese che sarebbe lunedì a venerdì trading dalle 9 alle 11 poi trading un'altra volta dalle 3 e mezza alle 5 capito? apriremo un po' prima perché tutti si vadano preparando e preparare il mercato è normale e come si può diventare gratis questo? qualsiasi persona che si iscriva col mio link e comincia a fare trading con uno dei broker e automaticamente potrà venire gratis due giorni adesso vi spiego cos'è che è sempre gratis l'unica cosa è che dopo... cosa mi hanno iscritto? l'unica cosa è che dopo aver fatto... avete iscritto e aver fatto quei due giorni gratis l'unica cosa è che io chiedo che non proprio per me i soldi ma più che altro sono 3 euro l'ora come se fosse un internet caffè, sai quando andrate in internet per l'affitto del computer però anche lì se uno mi copia per esempio sui toro che a me già i toro mi sta pagando un salario mi sta pagando soldi mi sta dando già un... soldi perché dovrei chiedervi a voi di pagarmi? allora quello che vorrei per esempio chi mi copia sui toro potrebbe venire gratis quando gli pare niente non deve manco affittare il computer e se qualcuno si iscrive con un altro dei broker che il broker sia quello che mi paghi 3 euro capito? e fare un'idea di quel tipo poi se non può venire in persona c'è sempre la versione online che costerebbe un euro al giorno per tutto il giorno che anche come ho detto se qualcuno mi copia completamente gratis o se qualcuno è entrato con i broker che ho fatto il broker faremo in modo che il broker mi paghi questo euro così neanche quei 3 euro d'affitto o l'euro del broker dobbiate voi pagarli per quella versione online se invece non volete per adesso entrare in nessun broker l'ora sarebbe la trading floor sarebbero 12 euro al giorno però se volete fare solo un'ora sono 3 euro non è che se non ce li avete proprio i soldi guarda io vi faccio anche stare 2-3 giorni senza dover pagare niente così vedete com'è questo è come volete voi perché a me l'interessante è farlo gratis come vi ho detto penso che sto facendo tutto il possibile perché sia così e che tutti possiamo soffrire di questo cos'è il bello della trading floor? che saremo tutti insieme potete domandarmi nel momento potete imparare in persona vedete cosa faccio io come entro come studio il mercato tutto in persona nel momento sia in persona sia online certo però tutto spiegato l'online lo farò con belle telecamere poi ci sarà mia moglie che sarà attenta alle telecamere cambiare da una telecamera all'altra per spiegarlo bene così l'idea è di fare questo questo sistema così penso che sarà molto interessante penso che sarà divertente e ce lo passeremo bene ok cosa ho preparato un kickstarter la verità ho usato un'altra un'altra compagnia per fare questo che non ci prende il percentuale perché kickstarter ci prende un 5% del totale che abbiamo fatto non mi sembrava giusto e andiamo a pensare a me mi serve ricordare 180.000 euro ok chi dona 20 euro ci avrà un certificato che se lo può mettere a casa che ha aiutato al progetto chi dona 50 euro ci avrà 2 mesi online di trading floor dell'online chi dona 100 euro ci avrà 5 mesi dell'online trading floor gratis che non gli serve nel broker o niente direttamente gratis chi dona 500 euro ci avrà 3 mesi di trading floor in persona gratis più l'online adesso vi spiego non sono 3 mesi che dici comincia dal giorno 1 e finisce dopo 3 mesi no sono 3 mesi di giorni per esempio se vieni un giorno 3 mesi sono 90 giorni se tu vieni un giorno ancora ti rimangono 89 giorni capito se entri nell'online un giorno ancora ti rimangono 89 giorni dell'online così è farlo io voglio farlo veramente che sia proprio che potete utilizzare tutti quei momenti non che vi dico 3 mesi entri 2 volte forse in 3 mesi già te lo levo no non è così non si fa così poi chi dona 1000 euro c'ha un anno lo stesso 365 giorni che può venire quando gli pare in persona sia online e chi dona 2500 euro c'ha 2 anni che può venire quando gli pare in persona sia online ok questo saranno per quelli che appoggiano il progetto dandole donazioni per poter aprirlo la prima volta dove cosa faremo lì dentro sarà trading in diretta con live in multidioma poi ci sarà trading in diretta online che sarà maggiormente in inglese però che anche spiegherò in altre lingue qualche giorno della settimana e poi se qualcuno domanda come ho detto lo farò anche nella lingua che mi ha domandato poi faremo competizione di trading che ci faremo pagare dai broker i regali per esempio un po' di tempo fa c'è stato Ettoro che aveva anche partecipato abbiamo fatto una competizione che ci ha regalato era il primo premio un iphone secondo premio un tablet e terzo premio un apple tv immaginate quello ci avevano regalato quando abbiamo fatto la competizione un mese solo è stata questa competizione e un premio speciale il trading central per chi non avesse un conto grande anche quello c'è stato è stato veramente bello ci siamo divertiti e ce lo siamo passati bene perciò quello lo faremo anche lì poi che materiale ci saranno i computer con tre schermi l'uno o con due schermi poi dipende come lo impostiamo bene però io penso di fare tre schermi a uno bello schermo grande poi ci saranno i libri che stamperò i libri per studiare materiale da leggere giornali notebook speciali fatti per il progetto cose carine per poter averli lì e condividere con tutti poi sempre lo stesso se uno vuole il libro il broker ce lo facciamo pagare dal broker che si ce lo fa pagare il broker quando avete soldi dentro il broker e state investendo tutti i giorni tranquilli che ve li pagano queste cose perché veramente con voi si fanno tantissimi soldi dentro il broker io vi dico la verità e tutte le cose spiegate poi faremo un video più avanti spiegando su quanto guadagna un broker con te perché penso che è una cosa molto interessante ok questo è il progetto dove lo faremo adesso? certo perché anche quello penso che sia importante allora il progetto lo faremo in maggiorca nell'isola di maggiorca con queste bellissime spiagge saremo molto vicini a palma di maggiorca così direttamente all'aeroporto si può venire alla trading floor e fare trading con me l'idea è che quando apriamo questo progetto di aiutare a tutti chi vogliono venire per parlare con hotel per farci prezzi più bassi o con appartamenti e viaggi anche specialmente pagati apposta per venire per fare questo lavoro prepareremo tutto questo per fare pagare il meno possibile anche che qualcuno venga e si faccia anche una vacanza nello stesso tempo che fa trading con me penso che sia interessante vacanza di trading lo chiameremo è stata data l'idea me l'ha data uno dei ragazzi qua italiani che è stata una grandissima idea veramente lo ringrazio tantissimo grande idea questo dei viaggi pensati trading di vacanza mi hanno detto wow bellissimo questa è l'idea più o meno di farlo allora chi può venire anche se sia una volta che ne so all'anno viene per stare due settimane e si può fare una settimana con me di trading e l'altra te la fa di vacanza io penso che sia o che si vuole fare la vacanza e all'inizio si sveglia alle 9 del mattino e viene prima di tutto a far trading dalle 9 alle 10 o dalle 9 alle 11 e poi se ne va al mare può anche farlo poi ti ho detto chi non ha il broker può sempre pagare per due ore che ha fatto dalla mattina tre ore che ha fatto la mattina due ore veramente alle 9 alle 11 due ore sono 6 euro e si fa 6 euro di trading gli insegno le cose poi via un'altra cosa e così io penso che è bellissimo poi vi dico adesso questo è tutto quello che volevo dirvi come si può aiutare al progetto attraverso andate su liable academy sulla pagina web www.liableacademy.com e poi andate sotto 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 e c'è scritto the project schiacciate qua e vi esce la campagna capito di go find me è un posto sicuro dove si si può si può fare capito ho scelto questo specialmente perché non non ci paga quella commissione del 5% poi per ritirare i soldi così possiamo utilizzare tutti i soldi per il progetto ok andate qua si facciate donare e la vedete vi iscrivete dentro la campagna dentro go find me e donazione adesso è fatta potete mettere quanto volete anche se date un solo euro la mia idea e poi tutti quelli che hanno spoggiato il progetto nella parete del della trading floor mettere le foto di tutti con tutti i nomi perché penso che è una cosa carina di tutti quelli che sono riusciti ad appoggiare questo progetto poi perché mi servono 180.000 euro adesso ve lo spiego sono da 80 a 100.000 per comprare l'edificio perché penso che è meglio comprarlo che affittarlo alla fine è sempre un investimento ed è meglio comprarlo poi se un giorno di domani io arrivo a 60 anni e voglio ritirarmi dal progetto che sempre sia lì e che qualcun altro di cui ci fidiamo certo possa prenderlo in mano e così continuare e non fermare mai questo progetto che continui per tanto tanto tempo questa è l'idea poi ci saranno 80-100.000 per quello per l'edificio poi ci servono 40.000 per tutti i computer e i monitor alla fine penso di prendere 3 monitor per ognuno o uno grande che sia come 3 quelli belli della Samsung o della LG e poi ci servono materiale di ufficio 5.000 euro il progettore 2.000 euro o una schermo grande software per il trading che pagheremo ogni anno i primi 3 anni ce l'avremo pagato perché abbiamo messo 10.000 euro ma poi con tutti i soldi che stiamo facendo di quell'affitto che vi ho detto è quello che utilizzerò per pagare 3.000 euro all'anno anche di di una piattaforma di trading che ci dia le informazioni nel momento sarebbe una piattaforma professionale che tutti potremo usare insieme dentro l'ufficio poi o anche online poi faremo il modo per farlo funzionare per tutti poi dovremo pagare 300 euro all'anno per l'internet a alta velocità ho pensato prima di quello per quello c'è l'affitto del computer per poter fare fronto a queste spese poi l'acqua la luce tutto ho fatto un conto tutto insieme di 1.000 euro l'anno più o meno quello si è caro in Mallorca è caro e poi il resto dei soldi dei 180.000 lo utilizzeremo per finire la documentazione per poter preparare la documentazione legale per fare questo progetto e per stampare i libri le riviste tutto quello che serva per poter aiutare le lezioni di trading che faremo in diretta questo è il progetto per favore se vi è piaciuto il video schiacciate like commentate sotto se avete qualche dubbio qualche idea qualsiasi cosa per favore mi piacerebbe tantissimo avere le vostre idee se volete donare questo sarà aperto sempre è un cosa che non ha scadenza di tempo tipo in kickstarter anche per prendere fondi però una scadenza di 30 giorni invece questo non ha scadenza perciò quando vi sentite pronti che veramente vedete che il progetto è buono potete donare qui da quanto volete non c'è limite tutti io apprezzo qualsiasi donazione per fare crescere questo progetto il progetto l'idea è stata come vi ho detto sono rimasto senza lavoro sto cercando anche lavoro però poi ho detto scusa invece di di fare un altro lavoro per lavorare per qualcun altro mi piacerebbe tantissimo fare un progetto che potrei spendere tutto il tempo facendo trading insieme a tutti insegnando imparando insieme a tutti e ho detto questo è il momento perfetto per cominciare questo progetto e per questo l'ho cominciato perciò se veramente vi piace potete donare darmi idee qualsiasi cosa è accettato veramente moltissime grazie e ci vediamo alla prossima ragazzi dai ciao 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 ciao